Eccoci ragazzi come è stato, un saluto a tutti ben ritrovati, di nuovo una buona domenica, mi raccomando commentate numerosi, lasciate un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella, ci tengo eh, dai forza! Allora oggi volevo commentare due cavolate che sono state dette secondo me con il massimo rispetto ovviamente, per me però dal mio punto di vista sono cavolate. Infatti la prima l'ha detta Zoff, che sicuramente di portieri se ne intende più di me, lui dice che Meret è più tecnico di Mignan, ora forse voleva evidenziare il fatto che Mignan sia molto istintivo, esplosivo, però secondo me è anche molto meglio a livello di tecnica rispetto a Meret. Cioè davvero, stiamo paragonando, o meglio sta paragonando due portieri molto diversi l'uno dall'altro. Quindi, però magari ha ragione lui, perché è stato un grandissimo portiere, però a me sembra una cosa assurda. Dall'altra parte ho approfondito, questa cosa qui di Sacchi secondo me merita un approfondimento, perché ieri Sacchi ha detto Giroud non torna. L'altro giorno a 92esimo ritornava, quando aveva la lingua di fuori, era malconcio e ha 37 anni. Sarà un episodio, è stato a vedermi la mappa di calore, è andata a vedervi la mappa di calore di Giroud, quella dei movimenti, dove tocca palla, altro che non torna. Cioè sembra quasi la mappa di calore di un centrocampista. Quindi, si può dire di Lea, o magari, ma secondo me non si deve dire mai nella vita di Giroud, che è uno che invece si sacrifica e spesso vediamo lì in mezzo al campo, a tornare, a stoppare, a far salire la squadra, a far la sponda, ad aiutare dietro, quante volte. Per questa mi sembra un'altra caa volata. Ne ho messe due insieme in un video, ditemi da che parte state. Come a forum mettete il sassolino a chi? A Sacchi o a me in questa frase, a Zoff o a me in quest'altra frase. Commentate numerosi, un video un po' diverso. Iscrivetevi, lasciate un like e commentate numerosissimi. Diamo una buona domenica e a prestissimo, va bene? Iscrivetevi, ci tengo. Ciao ragazzi!